buonasera a tutti cripto nottamboli rubo questa frase a giuseppe uno dei nostri amici di malati per le cripto sempre qui con me con fabrizio ferri il vostro analista per fare disamina tecnica del mercato cripto e in special modo di bitcoin e ethereum partiamo con ethereum perché è molto più semplice da discutere un grafico che è apparentemente in blocco proprio ormai è una congestione che dura da settimane e anche oggi non c'è stata è così questa questo piccolo rimbalzo positivo però nulla di troppo entusiasmante in quanto stiamo al momento lateralizzando o comunque ecco se parliamo di un trend di breve addirittura brevissimo per quello che riguarda il grafico daily è un grafico è un trend che sta ribasso perciò prestiamo attenzione anche se la candela di oggi ci offre qualche spunto e qualche idea un po più ottimista però facciamo attenzione a non farci prendere dalla mano perché vanno rotti i livelli importanti in questo caso i 2.590 secondo me è un livello estremamente interessante tiene bene il supporto sui 2.295 2.280 che già tracciato da diverse settimane come ormai sapete se mi seguite intanto vi chiedo di mettere su il pollicione perché almeno diamo movimento al canale e vi ringrazio se ancora non mi siete iscritti di averlo fatto e se invece dovete farlo fatelo adesso perché andiamo direttamente su bitcoin bitcoin che come abbiamo visto oggi sta provando a dare qualche gioia ai più ai fedelissimi anche se non ci sono tutte le indicazioni di una ripresa imminente e importante questo è il rettangolo ormai io mi sto portando dietro da diverse settimane tango rotto a ribasso giunti poi su questa zona supportiva molto forte dei 31 dalla quale poi bitcoin è ripartito configurando una morning doji star che però ecco si ci ha portato qualche frutto in termini di performance di 1-2 giorni però non è ancora proprio il momento di stappare lo champagne perché siamo ancora in una fase abbastanza congestionata per quello che riguarda i volumi qua su binance vediamo quanto bitcoin è stato scambiato comunque sono volumi importanti per quello che riguarda l'exchange però non tutti i volumi di bitcoin si muovono sull'exchange binance e di conseguenza è opportuno di vederci quello che è il grafico su coinmarketcap che ci dà una visione di insieme più completa e vediamo come bitcoin quando parte quando rompe i livelli importanti lo fa tendenzialmente con contratti seri quindi quando inizia a smuovere oltre i 40 mila stiamo parlando di 75 miliardi di bitcoin che si smuovono 120 miliardi cioè quando poi storna abbassa un po il volume e poi riparte siamo sempre sui 60 70 60 190 miliardi cioè parliamo di tantissima roba su bitcoin cosa importante da vedere in questa fase qua specifica è come siamo ci stiamo un po così altalenando fra i 60 e i 40 e di conseguenza non ci sono ancora quelle belle indicazioni pulite di una ripartenza eminente infatti abbiamo volumi bassi che non ci danno tutta questa almeno personalmente non offrono questo entusiasmo che tanti invece hanno e di conseguenza non voglio neanche trasmettere false informazioni per quella che è la mia visione se vado a vedere un grafico entrate perciò un quattro ore già un po più un po più veloce vediamo come è stata rotta la resistenza della zona 39 3 ormai diciamo sapete a memoria io quante volte l'abbia discussa questa zona qui vediamo che però le candele che si sono configurate mantengono il mini trend rialzista quindi sono perfettamente allineate con quello che è quella che è l'euforia del momento però attenzione perché sono livelli molto importanti già li ho marcati qualora chiudesse sotto 39 potremmo tornare a scendere andare a toccare anche addirittura 38 8 che diventano livello secondo me molto importante sotto il quale potremmo tornare realmente ad incastrarci in questa zona di congestione perciò facciamo attenzione a non essere troppo frenetici e troppo felici però oggettivamente quello che vedo adesso su grafico è un mercato che sta in rialzo quindi in un'ottica di 30 trade veloci quindi un trend rapido o meglio un trend veloce un trade rapido sicuramente abbiamo tutte le indicazioni per proseguire a rialzo fino a dove beh sicuramente c'è già un livello di resistenza importante secondo me che già conoscete che è l'area dei 44 mila questa è una volta rotta allora forse sì che potremmo ridefinire un discorso legato a un trend di lungo medio lungo periodo positivo al momento io andrei per scalini senza pensare a voli pindarici senza fare voli pindarici andrei piano piano a lavorare per target graduali quindi passare per i 42 mila poi 43 mila e ovviamente puntare 44 al momento ragazzi non ci sono tanti aggiornamenti da aggiungere quindi vi ringrazio per essere stati presenti a questa analisi notturna ormai vedo che di notte c'è tanta gente che è attenta anche al bitcoin perché comunque è curioso delle chiusure di giornata l'apertura della della cina quindi ecco mercato che si muove tantissimo di notte è anche interessante per me fare analisi perché poi c'è riscontro quindi grazie mille alzate sul pollicione se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ci vediamo domattina con qualche altra nuova analisi e ci vediamo domani pomeriggio 18 e 30 in diretta qua su youtube con me per ciò ragazzi vi voglio belli carichi domani in diretta ciao e buonanotte